. Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 13 settembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Acquario. Carta bianca al partner. Protagonista del giorno la passione, quella che travolge come un'onda e fa perdere la testa, non potrebbe essere altrimenti, col vostro governatore Urano, sempre più elettrico e dirompente in quadratura, dilatato dal grande Giove che lo accompagna, in più Marte sanguigno intrigono e la luna bollente con Venere nel segno opposto. Insomma, un vero blackout. Ma non finisce qui, buone premesse per una storia da sballo, nata magari per caso, da una corrispondenza virtuale ed esplosa all'improvviso non appena vi vedete di persona. Una trazione magnetica, una chimica irresistibile, stravolti al punto da consegnare subito al Cavaliere Rosso alla Dama Bianca in questione le chiavi di casa vostra e del vostro cuore. Meno male che il grillo parlante è sempre in contatto con voi, vi sottrae dal mazzo quelle della cassaforte, rischiate 90, ma almeno un 10% ve lo tenete per voi. Come dice il proverbio fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Notizie piacevoli in arrivo o arrivate da poco. Notizie positive e favorevoli, qualcosa che si annuncia. Conquiste, attrazione, un uomo non più giovane potrebbe fare da tramite per nuove conoscenze. Un uomo maturo, separato, divorziato, che ha reciso da poco un rapporto potrebbe improvvisamente farsi presente nella vostra vita. Ti daranno ottimi corsigli. Ascolta ciò che gli altri avranno da dirti. Con tenacia e pazienza potrai ottenere quello che desideri. Coraggio datti da fare. Hai esperienza e forza necessaria per farcela. I nati di domenica potrebbero vedersi delusi da un conoscente, i single in particolare potrebbero vedere appuntamenti sfumati e impegni disdetti anche all'ultimo momento. Portate pazienza. Alcune complicazioni sul lavoro potrebbero rendere un poco nervosa questa giornata. Inutile stare a recriminare sulla cattiva sorte, in questo momento dovete solo agire. Vantaggi da compravendite di case o terreni. Un viaggio in vista. Sarai attivo, svelto, pratico e bravo. Riuscirai a sistemare molte cose. Molto bene amore lavoro. Per i single e i dispoccupati ottime possibilità all'orizzonte. Oggi dedicatevi alla casa, mettete a posto quello che c'è da mettere a posto e studiate dei piccoli cambiamenti che in seguito renderanno più armoniose le vostre giornate. Energia positiva nel lavoro. Ampie veduie. Intuizione eccellente. Molto bene i nuovi amori. Difficoltà nei rapporti già consolidati. E tempo di tirare le somme su una questione che vi stava a cuore anche se negli ultimi tempi avete abbandonato l'idea di risolverla. Ottimi i rapporti con familiari e amici fidati. Aspiri a qualcosa di migliore ma adesso dovresti accontentarti perché in campo professionale ci vuole ancora tempo per emergere. Si innalza il livello del vostro buon umore espandendosi nel circostante, all'ambiente dei familiari, degli amici, dei semplici conoscenti. Siete disposti a vedere il bicchiere mezzo pieno, anziché quello mezzo vuoto. In modo significativo il cielo si rischiara in questo nuovo giorno di metà settembre grazie alla positività di Marte nel segno vostro alleato fondamentale della bilancia, appartenente all'elemento aria e al genere femminile dello zodiaco. Impegni lavorativi stringenti non vi permettono di dedicarvi come vorreste alla cura del vostro corpo. Per il momento è forse opportuno seguire gli interessi culturali e artistici per ritrovare il benessere. Il partner vi vuole bene e non perdi occasione per dimostrarvelo in modo teatrale, la qualcosa sotto sotto vi innervosisce. In barba alla luna plateale in leone, il segno dalla recitazione e del teatro, sostenete che i fatti del cuore sono privati, non c'è bisogno che tutto il quartiere, il parentado, i vostri colleghi, vengano a conoscenza delle vostre piccole barruffe. Amore ed eros. Battibecco con il partner, due sensibilità diverse e contrapposte che ogni tanto fanno scintille, ma oggi in particolare cozzano violentemente l'una contro l'altra. Ma è questo il sale del rapporto, altrimenti dopo un po' vi verrebbe annoia. Curioso e insolito poi il vostro modo di litigare e fare pace, le cose non ve le urlate in faccia, ve le scrivete via messaggio. Tempo libero dedicato ai figli che hanno bisogno di distrazione, altrimenti a furia di studiare si prosciugano. Se siete in cerca dell'anima gemella, Marte in bilancia, introducendovi in nuovi giri di amici, vi fa trovare la persona giusta, specie se siete nati in gennaio. Tenete drizzate le orecchie e ben aperti gli occhi, potrebbe passarvi davanti e non accorgervene. Il vostro tasso di seduzione rimane elevato e vi consente di segnare nuovi successi che ribadiscono il fatto che siete uno dei segni più irresistibili dell'intero zodiaco. Lavoro e denaro? Incredibile ma vero, riuscite a concludere un grosso affare che da mesi sfuggiva anche a colleghi più scaffati e navigati di voi, merito della vostra dialettica divertente e strampalata, che sulle prime innervosisce ma poi fa scoppiare in una risata. Costi supplementari di ammodernamento della casa, si parte sempre con una cifra e poi ci si ritrova a dover sborsare il doppio. I nati nella seconda decade facciano attenzione a non pestare i piedi a qualcuno oggi in ufficio senza volerlo, cacciandosi così in guai piuttosto seri. Urano vi impone una disciplina un po' dura, ma voi sapete dare prova di competenza e di efficienza. Benessere. Attenti a non arrabbiarvi troppo, soprattutto per futili motivi, la pressione va su e giù come in mongolfiera e il vostro cuoricino si affatica. In sogna a tutto campo, la notte praticamente la passate leggendo o guardando la tv. Denaro. Muovetevi adesso nella gestione di una questione economica che vi aveva impegnato qualche tempo fa e che avevate messo da parte. Il cielo vi dà la possibilità di risolverla in modo efficiente. Per lei, fantasie amorose e golosità settembrine, l'uva matura, i fichi dolcissimi, splendidi, ma. Il mal di pancia è inagguato. Per lui, l'apparenza inganna, inizialmente la vostra lei sembrava una fatina tutta zucchero e miele, il pepe è arrivato dopo, siete ancora senza fiato. Colore delle emozioni, rosso lacca. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 7, finanze, 8, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.